Ciao ragazzi, bentornati su No Mamamazzo, bentornati nell'argomento Dilan Dog, benvenuti in questa nuova rubrica che credo chiamerò Retro Dilan. Vorrei parlare con voi in questo video del primo Dilan Dog che ho letto. Ero... ovviamente non ero così piccolo, questo Dilan Dog è il numero 51 uscito nel 1990 dal titolo Il Male. Io nel 90 avevo 5 anni, credo di averlo letto quando ero un po' più grande perché l'ho letto all'alimentare, comunque ne avevo 7. Ringrazio il mio caro compagno di classe William che mi ricordo mi prestò questo Dilan Dog e fui ammaliato, fui colpito tantissimo da questo Dilan Dog, ovviamente anche perché avevo 7 anni e stiamo parlando di un numero molto splatter, ovviamente non al punto da collezionarlo perché probabilmente non avevo ancora il concetto di sequenzialità dei fumetti, però mi è piaciuto molto. Poi ho preso qualche altro Dilan Dog qui e là e poi come sapete, se mi seguite, li ho recuperati per il trentesimo anniversario. Nel 2016 ho recuperato un po' tutti i vecchi Dilan Dog e ho recuperato anche il mio primo fumetto perché poi appunto si sa, fumetti del genere quando sei piccolo in casa durano poco. Sono felice di averlo recuperato, di averlo riletto, di averlo di nuovo tra le mani per poterne parlare con voi. Devo dire che le sensazioni che mi ha dato questo numero sono state davvero forti, mi ha subito colpito. Anche il messaggio, diciamo, finale che dà questo fumetto, lo avevo già un pochino capito fondamentalmente. Praticamente vediamo, il titolo è Il Male e vediamo fondamentalmente le azioni più efferate compiute dalla gente comune, quindi decapitazioni, uccisioni anche, anche se queste non vengono viste ovviamente, vengono fatte fuori camera, si dice fuori scena. Uccisioni anche di bambini, vediamo proprio smembramenti, una cosa che piace tanto a Tiziano Sclavi, occhi strappati dalle orbite, mangiati, cose così, perché c'è un virus. No, tranquilli, non è il corona. C'è un virus che è il virus del male, il male che viene trasmesso di persona in persona e c'è questo collaboratore di Dylan Dogg, che appunto ricorda molto, non lo Schwarzenegger, il Sylvester Stallone di qualche film d'azione, Giudice Dread, piuttosto che Demolition Man, che viene niente po' di meno che dall'America perché dice di essere uno scienziato, anche se sembra un po' un pistolero, che ha creato lui stesso questo virus, ha creato il male e deve trovare il modo di liberare la popolazione inglese dal male. Questo virus fortunatamente si passa da persona a persona e quindi non viene moltiplicato tra la folla, se no sarebbe stato uno sfacelo e lui non deve far altro che individuare la persona per ucciderla, per ucciderla e fare in modo che non tocchi nessuno, fin tanto che è viva o moribonda, in modo che questo virus finalmente venga sconfitto. Inutile dire che quando lui nel tentativo appunto di fare questa cosa, di effettuare questo omicidio, il virus passa di persona in persona e noi vediamo le cose peggiori succedere. Stiamo parlando comunque dei primi cento numeri di Dylan Dogg, quando Dylan Dogg era ancora standard, faceva in ogni numero c'era il cattivo da sconfiggere, il mostro che non era il mostro e c'era la bella di turno. La bella di turno in questo caso è una poliziotta molto coraggiosa che appunto si butta nella mischia, nell'azione per salvare in questo caso anche Dylan. Vediamo come sempre le fantastiche due paginette in cui Dylan fa l'amore con la bellona di turno. Devo dire che in questo numero è davvero bella e peccato che oltre a essere bella è anche cattiva ed è cattiva appunto perché anche lei viene infettata da questo virus e vediamo come Dylan litiga apertamente con questa versione cattiva della sua innamorata del mese per poi vederla appunto sconfitta diciamo uccisa dal nostro carissimo Sylvester Stallone che si chiama Kyle, questo scienziato di turno. Come ho detto inizialmente il virus si diffonde da persona a persona senza diffondersi troppo ma poi vediamo che c'è un escalation in una fantastica sequenza nafsed quindi dove non ci sono troppi comunque balloon in cui tutte le persone di Londra iniziano a fare delle cose fuori di testa appunto a sventrare i propri cari, sventrare gli sconosciuti. C'è solo una costante, nessuno si azzarda a toccare gli animali. È un po' quello che vediamo anche nei film horror. Se ci fate caso è molto difficile superare questo ostacolo, questo muro, questo paletto. Non si fa mai violenza sugli animali. Per esempio mi viene in mente il fumetto Kick-Ass 2 dove invece viene decapitato il cane del capitano Stellestrisce, cosa che non viene nemmeno riportata nel film. Proprio perché appunto nei film d'azione, nei film horror difficilmente, anzi mai, si fa violenza su un animale. Si fa quasi più violenza appunto sul bambino ma non sull'animale. Questo perché l'animale di per sé è simbolo di innocenza, mentre di bambini ne abbiamo visti, di bambini indiamoniati. Comunque tutto ciò che parla, che ha modo di esprimere la propria anima, può esprimere anche una certa cattiveria, quindi abbiamo visto come il villaggio dei dannati dove i bambini erano cattivi, in un certo senso. Mentre l'animale, che non può esprimere la propria volontà, viene visto come simbolo di innocenza e quindi guai a toccare l'animale. Vediamo che queste persone indemoniate, queste persone che hanno il male dentro, non tollerano che l'animale venga maltrattato. Infatti vediamo che quando appunto mi sembra il macellaio di turno prende a calci il cane, il randaggio che era venuto a cercare di nutrirsi, la persona che ha in sé il male vede questa scena e ammazza il macellaio. C'è poi un altro simbolo classico di purezza che non è una colomba ma è un uccellino che si vede per quasi tutta la durata del fumetto che rappresenta appunto l'innocenza. Quando questo simbolo di innocenza viene ucciso per sbaglio da colui che porta il virus del male, il meccanismo si interrompe e scatta qualcosa che fa sconfiggere per sempre questo male. La cosa bella è che anche Dylan Dogg non è esente da questo virus e lo vediamo per un secondo anche all'estremo della sua cattiveria. Fortunatamente succede proprio quando è di fronte a Kyle, questo scienziato, che pare avere il potere di risucchiare il male dalle persone infette prendendolo per sé liberando Dylan Dogg che poi appunto torna a essere buono e salva la situazione o viene salvato appunto da un aiuto, da questo uccellino innocente e da Scott Ragnardo. Fantastico numero, io ovviamente non posso essere oggettivo su questo numero perché lo adoro tantissimo. Finale in cui viene mostrato come in realtà è impossibile sconfiggere il male perché il male è ovunque, questa era solo una piccola isola, una piccola goccia di male intorno al mare e è molto bello perché è una metafora che mi ha fatto impressione fin da piccolo, così come la metafora sul non toccare mai gli animali, come gli animali non debbano essere mai maltrattati. Vi mostro la copertina perché è proprio fantastica, appunto c'è questa collinetta con gli occhi in questo stranissimo mare con i tentacoli che avvolge Dylan. Spero vi piaccia molto questo numero, se lo avete letto fatemi sapere se vi è piaciuto, se riesco a trovarlo ve lo metto qui sotto in descrizione così lo potete acquistare, lo potete recuperare, così mi scrivete anche voi qui sotto cosa ne pensate. Ma vorrei sapere un'altra cosa da voi, anzi due cose, non solo una. Vorrei sapere qual è stato il vostro primo Dylan Dogg, il vostro primo Dylan Dogg avete letto, quanti anni avevate, che impressioni vi ha dato, cosa vi ha scaturito e poi vorrei informarvi che questa rubrica non si chiude qui, questa rubrica continuerà ogni mese, ogni 15 del mese uscirà, più o meno eh, adesso sapete che non sono molto fiscale io, uscirà un numero in cui parlo di un vecchio Dylan Dogg, mi concentrerò su appunto sui primi 100, quindi io andrò per la mia strada, sicuramente ne girerò di video per portarmi avanti, ma fatemi sapere voi quali numeri volete che io recensisca, in modo da parlarne, quantomeno da metterli prima di quelli che voglio fare io. Quindi scrivetemi qui sotto il vostro primo Dylan Dogg e scrivetemi qui sotto qual è il prossimo numero che vorrete, che io recensirò, che io ne parli diciamo. Sarò sicuramente più obiettivo, qua è stato proprio l'ho fatto a braccio, l'ho fatto a ruota libera, praticamente vi ho raccontato un po' la trama, ma d'altronde non posso essere obiettivo. Ovviamente la storia è di Tiziano Sclavi, i disegni sono di Brindisi, lo dico a memoria perché lo conosco a memoria questo fumetto e mi sono davvero piaciuti tanto. Se volete anche per questa rubrica io posso fare la parte su Instagram, sull'Instagram TV in cui vi mostro anche i disegni, fatemelo sapere, io magari il link di Instagram TV poi ve lo metto qua in descrizione così vi date anche una sfogliata al numero. Ragazzi, io spero davvero che questa nuova rubrica vi piaccia, nuova vecchia rubrica perché parlo di cose vecchie, vi piaccia e noi come sempre ci salutiamo con un bel linchino e con l'imbuto e ci diciamo arrivederci al prossimo video.